Senti che pace nella valle. Il nonno lavora in un posto come questo. Si chiama la valle degli orti. Fa raccogliere le patate più buone, i pomodori più maturi, i borlotti più belli. Poi li manda in un posto dove li preparano come fa la mamma e li mettono in un grande freezer. Così, quando ci viene voglia, possiamo mangiarci un bel minestrone. Minestrone della valle degli orti. L'amore per la terra dà solo buoni frutti. Nonno, che fame che mi è venuta.